Sono Giuseppe Perale, sono nato nel 1978 a Venezia, provengo da una famiglia di imprenditori, sono lavorato in ingegneria, dopo ho proseguito gli studi facendo un datorato di ricerca in bioingegneria industriale, sempre il Politecnico di Milano, e quindi sono stato in Inghilterra all'Imperial College dove ho fatto un periodo come postdoc. Attualmente sono il presidente di IB, qui a Mezzovico, e sono uno dei soci fondatori. La IB è una società che è stata pensata nel 2007 ed è stata costituita nel 2008 qui in Canton Ticino e lungo la nostra strada nel 2011 abbiamo incontrato Fondazione Agire che ha creduto nel nostro progetto, ha investito nella nostra azienda e ci ha permesso nel 2012 di portare i nostri prodotti sul mercato. I prodotti sono sostituti ossi, ossia pezzi di ricambio per la rigenerazione e la ricostruzione del tessuto osseo danneggiato a caso di incidenti o traumi di diversa natura. Nel DNA della nostra azienda c'è l'attenzione per la continua ricerca e l'innovazione. Non bisogna infatti sedersi sugli allori ma continuare a investire per migliorare i propri prodotti, la propria azienda e se stessi. Noi crediamo fortemente che il vero imprenditore sia un imprenditore sano e quello che noi diciamo è mens sana incorpore sano. Grazie a tutti.